Acqualagna sceglie una settimana quanto mai strategica per la sua investitura capitale della cultura per una settimana, quella che va dal 28 ottobre al 3 novembre quella che unisce il primo con il secondo weekend della 59esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato in cui il prezioso tubero diventa di fatto il detonatore alla più ampia scoperta delle specificità storiche, archeologiche e paesaggistiche custodite dalla stessa Acqualagna. Aver scelto di tenere la settimana di capitale italiana della cultura con Pesaro così abbracciando la Fiera del Tartufo che è uno dei più importanti d'Italia oltre che naturalmente il nostro territorio che lo dia un forte valore aggiunto, una spinta, una massa critica importante per vivere al meglio questa settimana che partirà dalla tradizione, dalla storia, dall'archeologia per arrivare all'intelligenza artificiale passando per la musica, naturalmente la gastronomia, quella popolare, quella di coinvolgimento di grandi chef così come è fondamentale come in ogni settimana da capitale italiana della cultura il coinvolgimento delle scuole, di studi scolastici, in questo caso l'Istituto Comprensivo Mattei che appunto porta avanti un'attività importante di coinvolgimento dei giovani. Il fatto che noi abbiamo abbinato la settimana della cultura che coincide con la Fiera Nazionale del Tartufo è sicuramente un connubio vincente perché è la sublimazione del rapporto tra cultura, ambiente, territorio e tipicità e no gastronomia. Tutto questo patrimonio che nessuno ci può togliere perché è il patrimonio che fa parte della tradizione, della storia, della memoria storica è quello che noi vogliamo però traslare verso il futuro con anche l'innovazione, cioè memoria sì ma anche innovazione. Quindi noi diventeremo anche una fiera internazionale perché il Tartufo deve diventare il volano di una crescita di un'economia non solo locale, non solo provinciale, non solo regionale ma dell'intero paese e vogliamo affacciarci anche sull'ambiente europeo allacciando i rapporti anche con le altre regioni d'Europa. Un esempio è con la vicina Austria con la quale già abbiamo un rapporto, che è iniziato un rapporto, tant'è che faremo un collegamento durante la fiera fra il comune di Vienna e il comune di Acqualagna in diretta dalle piazze per proprio sigillare questo nuovo rapporto che noi guardiamo avanti, quindi guardiamo anche all'Europa. Una settimana che rimbalzerà dalla fiera alla gola del furlo, dalla casa natale di Enrico Mattei al museo archeologico per poi chiudersi il 3 novembre nella frazione di Pole con il progetto Archeo Explorer a cura della rete museale della via Flaminia che porterà a scoprire l'antica città di Pitinum Mergens. Questo è un progetto per cui siamo arrivati all'ottava tappa con Acqualagna ed è un progetto finanziato dall'Università di Urbino che fa parte della coprogettazione con la rete museale della via Flaminia. In questo caso sarà direttamente il professor Oscar May che presenterà sul campo i risultati della ricerca che porta avanti da anni sul sito dell'antica Pitinum Mergens, la città sepolta, città nascosta che si trova non sotto il paese attuale ma in località le pole e andremo a toccare con mano i risultati da un punto di vista geologico, delle prospezioni geofisiche che sono state fatte e degli studi. Quindi veramente un incontro interessante e di alto calibro scientifico.